Hai fatto lo scherzo grande alla tua ex squadra? Sì, abbiamo fatto lo scherzo effettivamente, però noi siamo venuti comunque a giocare una partita a viso aperto, non siamo venuti a prendere il pareggio, noi l'abbiamo preparata perché sapevamo di potercela giocare, infatti anche su entrambi i pareggi siamo stati propositivi, abbiamo cercato di affondare il colpo e ci siamo riusciti. Nel primo tempo ti sono capitate anche delle palle buone, un paio di volte blizzari, una volta il tuo amico Riccardo Brosco ti ha evitato il gol, poi però nel secondo tempo l'avete meritata questa vittoria, sei d'accordo? Sì, è stata una partita molto equilibrata, comunque sono gli episodi che determinano il risultato alla fine. Noi non ci siamo abbattuti quando abbiamo preso il gol, quando siamo stati in vantaggio e ci hanno recuperato, ugualmente non ci siamo chiusi dietro, abbiamo cercato di ripartire per segnare e ci siamo riusciti, dai, il risultato ci sta. Ti chiedo un'ultima cosa, poi una domanda da studio, che effetto ha fatto a ritornare a giocare qui in quello che è stato il tuo stadio? È una grandissima emozione, qua ci ho lasciato davvero un sacco di sentimenti, ci ho lasciato, mi è piaciuto tornare, mi è piaciuto vincerci e mi auguro di... Per dire di tornarci? Sono un po' vecchietto per tornarci, no, di rigiocarci, anche se auguro comunque al Pescara magari di raggiungere l'obiettivo promozione. L'auricolare, così c'è una domanda da studio per te, c'è Massimo Profeta, Fabio Ferraresi, Luca Di Matteo in studio che ti faranno una domanda. Vi ascolta. Intanto Federico, ti salutiamo caramente, gli sblocco un ricordo perché quando andò a Cagliari e era appena andato via da Pescara sbagliò la panchina, stava per sbagliare la panchina, ti ricordi? Sì, a voglia se mi ricordo, l'abitudine a giocare in questo stadio, però stavolta ci sono stato più attento. Allora, la domanda da parte... Spero di tornare a giocarci, eh? Ah sì, infatti, Luca Di Matteo. Ciao Federico, come stai? Ti volevo fare una domanda perché comunque abbiamo giocato insieme e ti ho visto anche l'anno scorso ad Ancona, ma quanto vuoi giocare ancora? Eh, finché le gambe reggono ci provo. Poi a Reganati mi sto proprio divertendo, mi piace il gruppo, mi piace il posto, mi piace tutto quanto, quindi se c'è la possibilità spero di fare qualche altro campionato.